Sono stati i neroverdi del tecnico Lillo Bonfatto a vincere il derby di andata degli ottavi di finale di Coppetari d'eccellenza. Un successo in rimonte per la squadra locale, giunto in pieno recupero con un gran gol dalla distanza del fantasista Piero Concialdi, uno dei nuovi arrivati più attesi in questa stagione. Esordio tra i titolari Perotero, Sant'Angelo e Licciardello, con Bonfatto che inizialmente si è affidato un po' al turnover. Meglio il Profavara per tutto il primo tempo, con gli ospiti che hanno fallito diverse occasioni da gol. Rete del Profavara che è giunta al ventiduesimo grazie all'attaccante Retucci, che ha chiuso con un diagonale vincente una bella combinazione con Lucarelli e porta in vantaggio la sua squadra. Per il resto del primo tempo, gli ospiti gestiscono senza affanni gli infruttuosi tentativi di rimonte dello Sciacca. Nel secondo tempo, dopo dieci minuti, il copione del match cambia quando gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Caternicchie per doppia munizione. Da quel momento sono i Neroverdi a comandare il gioco, stazionando quasi ininterrottamente nella metà campo favorese. Al cinquantanovesimo e al sessantaquattresimo Gulino e Di Mercurio impegnano Seisi, che al settantunesimo si deve arrendere a Diraci, che pareggia i conti. L'esterno d'attacco dello Sciacca prima costringe il portiere a ribattere un tiro forte e preciso, poi lo beffa all'angolino con la seconda conclusione consecutiva. I Neroverdi mostrano una buona condizione fisica e con grande vehemenza cercano la rete del successo. All'ottantatreesimo un tiro di Camilleri viene respinto, mentre al novantatreesimo, poco oltre il limite dell'aria, Concialdi, con un tiro spettacolare, realizza la rete del successo. Finisce quindi 2-1 per lo Sciacca, ritorna al Favara il prossimo 4 ottobre. Adesso testa al campionato di eccellenza, con Unitas che tornerà in campo domenica 24 settembre, in trasferta a Caltanissetta, contro la capolista Nissa, che primeggia al momento a punteggio pieno.